Ragazzi buon pomeriggio, eccoci qui con il nostro Q&A settimanale Ciao ragazzi, ciao a tutti Perfetto, ci siamo sia su Facebook che su Twitch a posto così, poi magari su YouTube vediamo la prossima settimana fra, insomma, le prossime volte se riusciamo anche a fare una diretta tripla anche, insomma, su YouTube, così le domande arrivano da tutte le parti e noi siamo qui Cresciamo a vista d'occhio, cos'è? Sì, sì, praticamente sì Intanto sì, salutiamo Federico Tomba93BloodMeet insomma, ciao ai ragazzi che sono in chat e a tutti quelli che arriveranno Settimana, insomma, non solo settimana, anche quella precedente insomma, già da un po' di giorni che poi tutti siamo in fermento per l'annuncio che è arrivato di PS4 Pro insomma, ho fatto anche un fuori dei denti, ho fatto un dibattito visto che gli utenti sono morti C'è stato un bel po' da parlare C'è stato un bel po' da parlare visto gli utenti, allora inizialmente, devo dire questa cosa qui inizialmente la situazione era un po' più era ben divisa, no? da una parte c'erano i ragazzi che volevano effettivamente acquistarla e dall'altra c'erano invece i detrattori ho visto invece nell'ultima settimana che il peso della bilancia si è spostato molto di più dalla parte dei detrattori moltissimo direi forse perché si aspettavano di più secondo me perché prima si era parlato di una 4,5 poi si è parlato del fatto che si sta riducendo il ciclo delle console adesso arriva la console nuova e alla fine la gente si aspettava tutti gli effetti di una console nuova una console che puntasse al 4K invece ci siamo trovati una macchina a metà strada effettivamente che non ha il 4K nativo, incredibile ma vero e quindi probabilmente la gente alla fine si aspettava talmente tanto una sorta di PS5 che a trovarsi davanti a una PS4,5 non l'hanno presa benissimo sì, più o meno è quello che penso anch'io infatti è una delle domande che ho fatto all'interno della nuova rubrica vi aspettavate di più? in realtà sono arrivate più risposte per quanto riguarda il fatto che non c'è uno scalino importante tra PS4 e PS4 Pro perché di fatto come ho detto si tratta di una macchina che ha qualcosina in più ma che non rappresenta un passaggio reale che uno ulteriormente dice perché dovrei spendere i soldi esatto anche qua l'ho fatto discutere parecchio hanno molto guarda hanno molto battuto il ferro su questa cosa dell'HDR perché in sostanza Sony ha tutta una linea di televisori che vuole piazzare che vuole piazzare sì perché insomma la linea delle TV Sony è una tra quelle che supporta di più tutti questi effetti tra cui è anche l'HDR quindi da un certo punto di vista capisco la loro strategia evidentemente è una cosa fatta perché loro si sentono anche forti sul mercato al punto che pensano comunque che possa funzionare che possa funzionare gli utenti in realtà allora da quello che sto vedendo non stanno rispondendo benissimo a questa cosa anche nella nostra chat di Facebook non ci sono utenti entusiasti ad esempio Joe Aidan scrive dai questa doveva uscire tre anni fa e al pari di una GTX 970 stanno prendendo in giro punto il risume è un po' l'opinione generale che dicevamo prima allora sì ragazzi il discorso è che è vero è vero che che questa qui è una è la console che avrebbe dovuto essere PS4 fin dall'inizio su quello insomma non ci sono non ci sono dubbi perché sono PS4 e Xbox One due console che sono uscite in beta palesemente in beta soprattutto Xbox One e quindi queste console di mezzo queste generazioni di mezzo funzionano come delle patch alle console vecchie è così perché voi in sostanza non vedete non allora il problema è questo tuttora pur proponendo una un 4K upscalato quindi non nativo non è detto che si riescano a raggiungere che si riesca a raggiungere un framerate decente adesso c'è il caso di Tomb Raider per quanto riguarda quel gioco lì ci saranno tre preset grafici tra cui poter scegliere uno insomma al massimo della del framerate però a 1080p e poi ci sono delle soluzioni che vi fanno godere del 4K upscalato però è un po' da vedere il framerate perché ce n'è uno che vi inchiode il framerate a 30 e un altro che dovrebbe essere 60 però è dinamico alla luce di questo c'è da dire un'altra cosa c'è da dire che Sony ha lasciato un po' tutto nelle mani degli sviluppatori cosa significa questo? significa esatto cioè se ne è un po' lavata le mani esatto un po' la Ponzio Pilato Sony Ponzio Pilato se ne è un po' lavata le mani perché dice ha fatto capire ha lasciato intendere agli sviluppatori questa è la potenza che noi vi mettiamo a disposizione vedetevela voi come gestirvela con la versione PS4 la versione PS4 Pro e i dettagli o meglio le definizioni che ci saranno su PS4 Pro così da una parte gli utenti saranno portati a tra virgolette prendersela con gli sviluppatori quando quando le cose non andranno bene perché è chiaro non tutti i giochi avranno le stesse le stesse caratteristiche tecniche quindi io questa qui l'ho vista un po' come fate voi vedetevela voi noi vi mettiamo questa a disposizione sono fatti vostri io l'ho vista così io ho trovato interessante una cosa che hai detto prima hai detto le console attuali sono uscite in detta soprattutto Xbox One però è anche vero che Microsoft è quella che sta cercando di staccare di più nel senso che Xbox One era in beta ma Scorpio dalle specifiche che avevano anticipato con tanto clamore all'E3 non sembra una Xbox One punto 5 rispetto invece a Nio che ora chiamiamo Pro che è un passo in avanti così così ma sicuramente Microsoft doveva farla con più urgenza questa mossa se proprio la vogliamo insomma se proprio vogliamo accettare questo questo arrivo delle generazioni intermedie perché era quella che ci tocca accettarlo per forza a meno che non le compra più nessuno però anche in effetti quello poi lo deciderà il mercato però sicuramente era quella che aveva più necessità di metterci una pezza perché i giochi non uscivano uscivano con una definizione con una avete visto molti giochi in 720 su PS4 invece arrivavano a 1080 insomma c'era una situazione un po' così detto questo PS4 Pro è molto più giusto accostarla alla One S che non alla Scorpio esattamente è una domanda molto diffusa tra i nostri lettori che dicevano cosa faccio aspetto Scorpio prendo PS4 Pro non sono confrontabili sono dirette concorrenti esatto PS4 Pro è più giusto affiancarla a una S perché Scorpio avrà il 4K nativo e attenzione a chi vi dice che non c'è molta differenza tra scalata e nativo non è così la differenza c'è e potrà essere messa in evidenza quando verranno sviluppati i giochi in 4K nativo questo può cambiare di molto le cose può esserci sì ok un passaggio più fluido tra una generazione e l'altra però lo scalino si noterà di più così perché il discorso qual è ragazzi allora con PS4 Nio che supporta solo il 4K up scalato perché il 4K nativo non ha la potenza per poterlo supportare tranne che nei giochi vecchi cioè di altre generazioni non costerebbe 410 euro in caso di scenario ecco per dirvi The Last of Us 4K nativo che ormai The Last of Us bellissimo per carità però insomma ce l'hanno proposto secondo me già troppe volte lo possono fare nativo perché è un gioco vecchio è un gioco di un'altra generazione i prossimi giochi che usciranno i cosiddetti AAA scordatevi il 4K nativo su PS4 perché non ha la potenza per poterlo fare e secondo me Sony ha battuto molto il ferro sull'HDR perché con questo high dynamic range loro possono effettivamente accorciare cioè far notare meno la differenza tra l'up scalato e il nativo perché con tutta una serie di effetti con tutta la profondità la nitidezza abbellisce l'immagine abbellisce tantissimo l'immagine e quindi se già si percepisce poco lo scalino tra il 4K nativo e il 4K abscalato con l'HDR l'ho notata ancora meno perché l'immagine è addolcita e abbellita è molto più vicina a quella che è l'aspettativa di un utente che compra una nuova console ok il discorso è questo qui il discorso è questo qui ragazzi qualcuno su facebook ad esempio Paolo Fara dice a questo punto vado su pc mentre altri chiedevano proprio quello che dicevamo se conviene Scorpio allora Scorpio allora vi rispondo molto semplicemente ragazzi PS4 Pro conviene se voi non avete una PS4 in casa e se avete un pannello 4K però va detto anche questo il pannello 4K che tipo di pannello avete perché non tutte le tv 4K hanno l'HDR io ho controllato mi sono fatto anche delle ricerche ho visto che ci sono dei pannelli che superano i 2000 euro 2005 4K smart tv quello che vuoi non hanno l'HDR quindi controllate bene questa cosa se volete affiancare una tv a PS4 Pro chi invece ha una PS4 normale secondo me non ha dei grandissimi motivi anzi proprio non ne ha veramente dovrebbe esserci un miglioramento di prestazione ma dovrebbe essere una roba così notevole ecco quindi il discorso è questo qui il discorso è questo qui Scorpio invece è una è proprio un'altra macchina è proprio un altro tipo di macchina quindi il paragone non esiste sia come potenza sia come caratteristiche e tutto il resto perché la console della generazione di mezzo di Microsoft è la One S non è Scorpio è Blood Meat 90 che ci scrive però Valti Alettava quante persone possiedono un pannello 4K ora come ora? eh ma allora il discorso è proprio questo ragazzi che la penetrazione nel mercato delle tv è quella del 1080 e sono quelli del full HD in casa la maggior parte delle persone hanno una tv full HD o HD il 4K o esatto il 4K è una tecnologia in divenire ed è in divenire non solo per la diffusione che è all'interno delle case è in divenire anche perché attualmente di titoli che sfruttano il 4K nativo quanti ce ne sono? è una vendita o comunque è un tipo di mercato che si sta portando avanti in maniera preventiva o meglio in maniera forse un po' troppo rapida rispetto a quelli che sono i standard dei giochi cioè è come se è come se viene prima venduta la la è quasi come allora è quasi come se vi stessero dicendo ragazzi il futuro è questo qui attrezzatevi però noi abbiamo macchine che questo futuro ve lo lasciano intravedere chiaro cioè questo qui è il discorso non si scappa intanto vedo commenti ovunque si stanno arrivando commenti di qualsiasi tipo ad esempio c'è il white diablo che dice considerando che i pannelli in 4K non sono a prezzi abbordabilissimi il rischio del fallimento di queste nuove console è concreto effettivamente sì e secondo me non è un caso che la conferenza lì del playstation meeting non abbia pronunciato tante volte 4K quante volte è pronunciato HDR che si può trovare anche in alcuni pannelli a 1080p ho visto e poi l'hanno pure lanciato ho capito bene come su PS4 perché non l'ho ancora provato perché in teoria servirebbe il supporto all'HDMI 2.0 2.0a addirittura forte che la console originale non aveva sì sì allora questo è vero però in realtà PS4 dovrebbe fare anche qui una sorta di chiamiamola lo simula sì esatto mettiamola tra virgolette e diciamola in maniera comprensibile per tutti fa una sorta di emulazione di quello che l'HDR dalla parte della console perché sì è vero c'era questa domanda anche per quanto riguarda l'HDMI 2.0 che non ha PS4 però è una caratteristica che trovate anche sulla 4 parliamoci chiaro e a tal proposito c'era Marco Vicentin che dice scusate ma il miglioramento delle prestazioni su 1080p e PlayStation War mi sembra un ottimo motivo per passare a Pro attenzione Marco il miglioramento delle prestazioni su 1080p c'era anche con PS4 perché come abbiamo appena detto questo aggiornamento per l'HDR c'è anche su PS4 PlayStation War arriverà anche su PS4 con un dispositivo esterno se non sbaglio che viene attaccato un'unità di calcolo un'unità di calcolo esterna quindi PlayStation War lo può attaccare anche alla PS4 non c'è niente che PS4 che PS4 Pro a livello contenutistico contenutistico ha in più rispetto a PS4 non ti taglia fuori da nessun contenuto non ti taglia fuori da niente PS4 Pro è un upgrade tecnico di PS4 significa che voi avrete una qualità migliore per quanto riguarda la definizione dell'immagine ma non avrete in alcun modo e lo ripeto in alcun modo delle migliorie per quanto riguarda il numero di poligoni sui personaggi sui palazzi sugli scenari non è un altro gioco attenzione migliora la definizione di quello che è un gioco che verrà scalato a seconda delle console in cui si trova o a seconda dei preset che voi imposterete se ve li metteranno a disposizione come Tomb Raider è questo qui il discorso perché c'è molta confusione in questo senso molti ragazzi anche privatamente mi scrivono dicendomi ma PS4 Pro allora mi fa veramente fare questo salto in più perché allora perché nasce questo dubbio in molte persone perché sono tutti ragazzi giustamente che vengono da una concezione delle console che è sempre stata la stessa cioè che quando esce una console nuova c'è un salto sei a posto c'è un salto questo salto non c'è più perché il passaggio tra una generazione e l'altra sta diventando più fluido sta diventando un'altra cosa sta diventando ecco un'altra cosa come cambiare la scheda grafica ai pc è proprio il paragone giusto perché Andrew House di Sony ha detto che hanno pensato alla console per non far scappare gli utenti a metà generazione su pc secondo loro sì però se poi mi togli le modi vabbè vabbè c'è anche quella domanda oggi oggi abbiamo un sacco di robe di parlare sì ma io dico io tu non vuoi far scappare le persone al pc però se togli tutto quello che può offrirti il pc vabbè non è che non è che sia vantaggiosa la cosa comunque dopo questo lunghissimo preambolo dovuto però su questa nuova console direi di passare un po' alle domande dai perché altrimenti andiamo molto lunghi oggi sì la prima era praticamente a tema perché Fab Dragon Ball ci aveva scritto buongiorno ragazzi parlando di playstation 4 pro io la prenderò visto che non ho ancora ps4 e ho una tv in 4k detto questo una curiosità voi dovrete passare per forza da ps4 pro essendo una redazione giornalistica per stare di conseguenza al passo con i tempi oppure no? allora noi non siamo obbligati ad avere una ps4 pro per i motivi che ho spiegato proprio all'inizio nel senso che a livello contenutistico i giochi sono quelli lì non si scappa non si scappa se Sony ci vorrà agevolare di una ps4 pro redazionale noi ovviamente avremo di conseguenza la possibilità di provare i giochi al massimo delle loro possibilità però questo sta a Sony e non sta a noi anche perché secondo me ci saranno parecchie domande del tipo ma come gira su ps4? gira su pro? certo certo no allora noi non siamo obbligati non abbiamo l'obbligo di avere però no sicuramente siamo interessati a vedere poi effettivamente quali sono le differenze no? tra gioco e gioco perché aspettiamoci delle differenze tra gioco e gioco non tutti hanno avranno evidentemente questi preset grafici di diverso tipo e quindi siamo curiosi di vedere come la portano avanti ti leggo una domanda da Facebook che sono sicura ti farà piacere perché Francesco Mercio ci scrive caro Domenico cosa ne pensi della demo aggiornata di Resident Evil e del nuovo trailer? guarda allora cosa ne penso? io ci ho giocato stamattina alla alla versione uguale con un lieve update di ho visto che hai mandato qualche commento un po' così su Facebook guarda allora sì io adesso il famoso dito sì probabilmente adesso qualcuno lo spolperà per bene questa demo lo spolperà per bene e forse scoprirà qualcosa che io non ho scoperto però dalle prove che io ho fatto stamattina hanno aggiunto la mano di un manichino dove si attacca il dito il famoso dito del manichino ma ancora non puoi usare questa mano da nessuna parte il mistero non è ancora svelato no io mi aspetto con il prossimo update che ti danno il braccio del manichino così il dito con mano braccio e poi magari prima di gennaio ti danno tutto il manichino e poi hanno messo visto ho trovato anche la chiave di un seminterrato ma tu non puoi scendere nel seminterrato allo stesso modo ho trovato i proiettili per la pistola ma non c'è la pistola stai comprando il puzzle sì ma che me le faccio allora è come se ti dessero sì un puzzle però i pezzi ti rimandano per posta man mano quando vogliono loro così tu hai completato dici guarda io ho finito quello che me ne hai dato quando è che arrivano gli altri pezzi e guarda ti rimandiamo poi via posta e tu puoi completare tutto non sono troppo convinto di queste strategie non ragazzi c'è anche un altro pezzo c'è Jim Champ che manda commenti osceni che non leggiamo su dove mettersi il pezzo del mattino ecco no magari no però ecco c'era anche un'altra stanza in più quando voi salite al secondo piano e tirate giù la scala per andare in soffitta poi c'è un muro che è sfondato prima invece era sulla precedente demo vedevate solo il muro adesso è proprio sfondato e c'è un'altra stanza in questa stanza si trovano i proiettili lì si trova c'è una scala che vi un'altra scala che vi fa vedere una porta un'altra via di fuga probabilmente è un abbaino è un abbaino della villa in sostanza da cui si può sfuggire ma non potete scappare insomma le cose si complicano si si complicano ma secondo me non si sono mossi di un millimetro hanno solo aggiunto delle cose veramente Jim Champ scriveva Valtier come si appassiona con Resident Evil 7 ma si ma io sono molto appassionato di horror ormai lo sapete quindi insomma invece scusami no non è una novità ecco il mio c'è Exol Prime che probabilmente è un fan della serie che chiede ma questo Resident Evil 7 avrà un qualche collegamento con la trama originale in teoria nello stesso universo solo che non dovrebbero vedersi i personaggi allora sì altrimenti non l'avrebbero chiamato 7 significa che c'è una continuità a livello di storia e ci sarà e ci sarà perché se voi poi andate a vedere sul piano superiore accanto al telefono che squilla c'è una foto molto chiara se la girate insomma vi dicono ci stavano spiando da qui e c'è un elicottero col simbolo della umbrella ah ok quindi il collegamento palese il collegamento è palese il collegamento è palese però loro adesso con questo set stanno secondo me sbagliando delle cose perché anche col trailer col trailer che è uscito oggi è troppo 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 basato su su horror classici come The Texas Chainsaw Massacre che sarebbe non aprita quella porta e altri film horror su questa falsariga dove ci sono delle famiglie completamente fuori di testa che torturano chiunque si è trovato lì per caso in mezzo alle loro grinfie quindi da quello che fanno vedere mi sembra veramente un enorme gigantesco cliché però vediamo vediamo perché lo proveremo poi a gennaio cerchio di perdere l'identità di brutto cioè se ti fa influenzare un po' da quello un po' da questo giustamente i fan si chiedono di Resident Evil cosa rimane sì sì il rischio c'è il rischio c'è assolutamente sì però vediamo vediamo effettivamente se vediamo a gennaio insomma lo proveremo e tireremo le somme e via insomma ok ti leggo invece dal sito chiudiamo di nuovo questa parentesi Tavaghe che dice l'anno di anticipo il prezzo aggressivo per PS4 Pro potrebbe essere un serio problema per Scorpio no scusa perché mi son perso Tavaghe dice l'anno di anticipo il prezzo aggressivo per PS4 Pro potrebbe essere un serio problema per Scorpio no secondo me può essere più un problema per Scorpio se prima dell'uscita non c'è una PS5 che sarebbe concorrente dell'eventuale Scorpio ma sarebbe clamorosa a quel punto è veramente la rivolta popolare coi forconi eh poi gli analisti hanno detto che probabilmente sarà annunciata nella seconda metà del no che sarà annunciata l'anno prossimo e arriverà nella seconda metà del 2018 se ci hanno preso sono due anni di stacco cioè quindi fai comprare la PS4 Pro agli utenti dopo sei mesi gliene annuncia un'altra magari non sei mesi metti che sia un anno più o meno metti che l'annuncia non a settembre dell'anno prossimo ma è comunque prima di Scorpio sarebbe bastardata non è la parola giusta però sarebbe una strategia oculata per andare a infastidire Microsoft però bisogna vedere cosa ne pensa poi la gente che va a comprarsi PS4 Pro eh sì ragazzi guardate in effetti è un po' controversa questa cosa e molti non la stanno prendendo bene però vabbè ragazzi vediamo vediamo perché vabbè io mi sono anche espresso insomma non vorrei ripetere le stesse cose non 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 sono troppo convinto di questa cosa però vediamo allora allora c'è H J K L F G F T I F C T codice fiscale ci ha lasciato un codice fiscale che ha già mandato tante volte questo commento glielo leggiamo e dice dopo che avete provato PES 2017 le versioni di Pro e la demo di FIFA 17 fino a ora chi è superiore cioè chi ha il gameplay e la grafica migliore allora per adesso io ho visto da vicino solo PES perché FIFA non l'ho ancora provato voglio provarlo dopo per vedere il viaggio mi è sembrato nettamente migliorato ma più di quanto ti possa dire io se vai sul sito c'è direttamente la recensione della versione completa di PES 2017 da cui manca solo la recensione dell'online quindi se stai cercando informazioni su come è sembrato il gameplay e come rende Fox Engine a questo giro trovi tutto nella nostra recensione sì io invece al contrario di te ho provato la demo di FIFA ok ho provato anche il viaggio e EA sta andando sulla direzione sta andando verso la direzione di 2K che ha proposto una cosa del tutto simile su con NBA con NBA che aveva la storia scritta da aiutami mi sta sfuggendo il nome del regista di Spike Lee eh sì di Spike Lee allora è interessante questa cosa qui del viaggio perché vabbè mette sicuramente cioè da qualcosa di diverso perché vi mette nei panni di un calciatore sconosciuto che si trova di improvviso all'interno di una squadra e potete anche controllarlo anziché controllare la squadra controllare lui e poi anche se solo Manchester United quindi tutti i tifosi del Manchester City non vorranno provare questa modalità sì sono molto loro sono molto sulla Premier vabbè poi c'è anche un discorso di scienze per quanto riguarda PS FIFA che anche lì vabbè ragazzi c'è uno stacco siamo siamo nel 2016 io mi aspetto mi aspetto a questo punto cioè mi aspetterei tutte le volte di avere tutte le rosa aggiornate invece rosa aggiornate licenze sempre pronte sia da una parte che dall'altra invece invece purtroppo non è così vabbè evidentemente non ritengono di investire su tutto io non sono molto d'accordo però va bene beh già i tifosi della Juventus con PES non è che fossero entusiasti è per quello perdersi per strada la licenza della Juventus non è roba di poco conto per il mercato italiano cavolo cavolo allora sul sito 2punchman ci scrive buongiorno ragazzi ci sono novità su Nintendo NX a ottobre vorrei passare su Wii U ma non so ancora per certo se aspettare e attendere notizie o passare subito all'acquisto cosa mi consigliate aspetta secondo me perché probabilmente sarà svelata breve ci sono rumor che parlano abbastanza insistenti adesso che parlano di un reveal per ottobre quindi rischi di fare di cadere nel tranello di chi ha comprato PS4 prima dell'annuncio di Pro poco prima con il fatto che cala il prezzo della console originale quindi io se fossi in te aspetterei ancora un po' aspetta no no aspetta anche perché comunque Wii U è alla fine del suo ciclo vitale ed è appesa al destino di di NX che arriverà a breve poi oltretutto NX se dovesse anche essere retrocompatibile prendi due piccioni con una fama quindi ah beh certo direi no direi di aspettare aspetta e poi a seconda di quello che annunciano insomma di tutte le caratteristiche che presenteranno puoi fare puoi fare la tua scelta assolutamente vediamo se arriva qualcosa nella chat intanto se no continuo a leggere del sito ci sono tante domande anche su facebook non so se riesci a recuperarle su facebook è da un po' che non mi si aggiorna vedo sempre le ultime non so se tu ne vedi diverse ho provato a fare refresh anche adesso anche a me anche a me mi si aggiorna ce n'era una che ho perso vabbè questo ne stavamo parlando proprio adesso Michele Palisano ci aveva chiesto cosa pensate della modalità viaggio del nuovo FIFA 17 ne abbiamo appena parlato Alessandro Pellegrini invece ci aveva chiesto cosa ne pensate di Mafia 3 c'è l'anteprima freschissima tu vai sull'home page del sito Mario è andato a Londra mi pare a provare il gioco quindi ha postato tutte le impressioni su la più recente build che gli hanno fatto provare e trovi tutto lì sì invece c'è Blood Meat 90 tab e sopravviverà il gameplay di Metal Gear Survive beh se no insomma si chiama così per un motivo no? assolutamente sì per forza cioè se non mi piace non lo compro e sta lì così easy as that facciamola così non facciamo polemiche forse non facciamo le no non facciamo le preventive più che altro no ecco magari è un ottimo gioco survival ha un nome che non ci azzeca niente ma magari è un altro gioco magari vedremo però vediamo sì no in effetti vediamo da aspettare sì 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 ok passiamo alle altre allora Edoras23 ci scrive salve ragazzi ho due domande la prima ad oggi dopo la presentazione di PS4 Pro come vedete Scorpio come una versione più potente di One o come una nuova gen io penso che sia una nuova gen la seconda domanda cosa pensate delle mancate mod su PlayStation 4 perché questa decisione e perché io che volevo prendere Skyrim Remastered su PS4 dovrei acquistarlo adesso ma infatti guarda semplicemente non è che magari compro su PC che non ha queste non ha queste limitazioni tutte le volte insomma diciamo sempre la stessa storia su PC siete molto più liberi di fare tutto quello che vi pare nel bene e nel male perché è chiaro ci sono anche dei aspetti negativi in questo però il motivo secondo me per cui hanno bloccato le mod su PS4 è che Sony non vuole avere il fardello di star sempre lì col controllo qualità anche sulle mod perché altrimenti veramente diventa diventa una cosa un po' troppo laboriosa perché voi pensate veramente se Sony lasciasse in mano ai utenti insomma gli svanettono a chiunque si volesse scimentare nella creazione di mod a controllare tutti i contenuti di volta in volta insomma il mercato delle console è un po' più attento per queste cose non che quello PC non lo sia però dato che il mercato PC per definizione è molto più aperto a queste cose tra cui anche gli esperimenti e ai contributi degli utenti evidentemente è così secondo me è così Stefania ridi rido perché GenCemp scrive vorrei un vantier senza censure per un Q&A la sua facciotta dice una cosa ma le sue parole sono sempre così pacate mannaggia ragazzi se volete un Q&A senza filtri lo posso fare solo dal vivo cioè voi state di fronte a me io vi dico veramente no allora in realtà io dico tutti riferi allora no in realtà io anche live dico quello che penso è solo che lo dico in maniera più addolcita ovviamente teniamo un'etichetta educata evitiamo di lasciarci andare cioè non significa che in diretta vi dico delle cose però dal vivo in realtà la penso in modo completamente diverso no io la penso così sono sempre trasparente e sincero perché è molto stupido dire le bugie perché tanto prima o poi la gente se ne accorge è molto stupido raccontare frottole quindi no assolutamente io quello che penso ve lo dico non ci sono problemi ecco stavo pensando invece in merito alle mod a me è una cosa affatto strano cioè Bethesda si è messa ad annunciare l'arrivo delle mod su Fallout 4 su Sky da mesi scopriamo adesso che Sony non le supporta perché lo scopriamo solo adesso cioè hanno aspettato seriamente che gli mandassero Fallout 4 per la verifica per dirgli che no non si può fare mentre loro continuavano a magari vendere anche copie di Fallout 4 per le persone che si aspettavano che arrivassero alle mod perché farlo sapere così tardi sia che sia da parte da Sony o sia che lo sapessero da prima e sia stata Bethesda invece marketing è una cosa molto infelice molto sì ma come tante altre cose sono infelici ma io ve l'ho detto ragazzi il marketing serve per vendere e quando sotto il mio articolone di Nome Sky mi son trovato dei commenti che dicevano ma Valtier ma cosa significa che il marketing è per vendere porca miseria io dico ragazzi ve lo ribadisco il marketing è per vendere filtratelo filtratelo tantissimo ma proprio tanto perché sono tutte aziende che devono vendervi un prodotto quindi occhio con i preorder occhio con tutto quello che ne consegue e occhio a come vi muovete soprattutto in virtù soprattutto in virtù di tutto quello che stiamo vivendo oh allora vi dico una cosa oh allora vi dico una cosa è uno è due è tre se non capite la colpa è vostra e ve lo ripeto la colpa di chi è vediamo se sento l'eco la colpa di chi è vostra oh punto ecco invece Blood Meat 90 fa notare c'è anche da dire che tutti i giochi Bethesda girano male su playstation perché sia Fallout che Tess è vero in effetti che di solito le prestazioni un po' più altanelanti sono su su playstation anche il DLC di Fallout adesso non mi viene il nome non quello della Nuka World ma quello precedente aveva grossi problemi di frame rate nelle aree nebbiose quindi sono ottimizzati un po' più così così però da qui a non riuscire ad avere un'ottimizzazione ideale a passare un anno a dire noi facciamo arrivare alle mod e rincarare la dose con Skyrim me ne passava allora sì forse su su questa generazione è così perché io mi ricordo che invece il precedente The Elder Scrolls Oblivion Oblivion su PS3 era un spettacolo era forse la versione migliore era veramente un piacere per gli occhi era stupendo quindi probabilmente vabbè forse lo abbelliranno con la PS4 Pro vediamo è anche curioso tra l'altro perché mi ricordo che ai tempi di PS3 tutti gli sviluppatori dicevano che era difficilissimo riuscire a sfruttare il cuore della console e invece i giochi Bethesda erano più belli sì avevano 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 un'architettura col cell che era complicata da sì sì quello sì però però c'è Martini X77 che dice ciao ragazzi Tava Best Voice grazie Tava Best Voice questo è un nuovo titolo non credo proprio non ve lo consiglio attenzione allora Soul Calibur Ruler ci scrive salve ragazzi diciamoci la verità per favore almeno tra noi appassionati dicono che per i giocatori PS4 e PS4 Pro saranno la stessa cosa che i giochi saranno uguali e il divertimento pure che nessuna console prevarrà mai su un'altra grafica a parte e che non ci saranno titoli e versioni in esclusiva quando finirà? quando secondo voi inizieremo a vedere giochi castrati o addirittura mancanti per PS4 Old? nessuno sembra parlarne ma io ne sono fermamente convinto avverrà il cambio generazionale tra queste due console ci sarà allora Soul Calibur tu vuoi la verità per favore almeno tra noi appassionati e io l'ho detto nel fuori dai denti che questa era anche una mia preoccupazione cioè nel senso che inizialmente adesso ci arrivo però inizialmente intanto qui è diventato notte senza motivo forse perché sta per arrivare un'acquazione di quelli un temporale monster clamorosi però no stavo dicendo anch'io ho espresso questa paura con PS4 Pro l'ho espressa durante il fuori dei denti cioè un paio di giorni dopo l'annuncio e dicevo ho paura che alla fine del ciclo vitale di PS4 Pro i giochi su PS4 potrebbero 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 arrancare poi però ragionandoci bene è anche insomma con rumor di un eventuale PS5 addirittura nel 2018 io questo rischio non lo vedo più nel senso che loro lanciano PS4 Pro semplicemente come versione potenziata di PS4 chi vuole chi vuole PS4 fascia media a quella fat chi vuole PS4 fascia alta alla Pro ma i giochi rimangono gli stessi per vedere il il salto lo scalino si dovrà aspettare PS5 e i giochi PS5 non credo proprio che gireranno sulla 4 e forse nemmeno sulla Pro se vogliono veramente fare dare quantomeno all'utenza la sensazione di essere passati alla gen successiva altrimenti se vogliono fare un passaggio molto più fluido possono includere PS4 Pro però a quel punto mi devi tenere anche la fascia che a quel punto diventerà bassa anzi molto bassa devi tenere tutti i diversi l'entry level e tutte le fasce successive diventa un po' complicato poi qui il discorso perché poi bisognerà vedere anche che caratteristiche va PS5 ma qui veramente stiamo parlando del nulla perché non esiste niente di tutto ciò quindi se vuoi che ti dica le cose in maniera ipotetica te le ho dette e secondo me andrà così se invece dobbiamo un attimino guardare un po' più nel concreto è probabile che loro insomma si comporteranno così cioè facendo veramente poi un passaggio netto come probabilmente sarà con Scorpio ma nemmeno perché Scorpio in realtà ha i giochi che vanno pure su PC quindi è un modo completamente diverso di intendere leggenda io sto ridendo perché è venuto fuori un delirio in chat sul best voice e hanno iniziato a scrivere vogliamo Tav in HD in HDR in 4K in 8K e vi dico una cosa un segreto che siccome oggi per la prima volta sto facendo una diretta con la fibra perché in questa casa c'è la fibra non mi vedrete mai andare meglio di così ed è la prima volta da marzo che io vedo domenico mentre facevo la diretta perché se lo mettevo con la vecchia connessione mi cascava tutto se io ti mettevo in play la diretta quindi siamo stati innamorati platonici cioè tu hai parlato hai parlato con la tua voce hai parlato con la mia voce io mettevo sempre in pausa Twitch perché se mi partiva a Twitch non ti sentivo più quindi delirio totale comunque vabbè allora Stefania remastered confermio perché ormai sei con la fibra quindi hai visto risoluzione allora per vederti in 4k cosa dobbiamo aspettarci cosa dobbiamo aspettare bisogna comprare Tava Pro mi upscala se no Tava Scorpio se no vai in Finlandia in Giappone dove hanno le mega connessioni in Romania hanno la super connessione ma dai rendiamoci conto che c'è tutta Europa davanti a noi veramente tutta Europa pensate cos'è l'Italia ragazzi pensateci bene e poi piangete per sempre ok allora dal sito c'è teo81spartan che ci dice buongiorno spazio ma questo silenzio di Rockstar ciao siete grandi dura un bel po' il silenzio di Rockstar quando Rockstar sta in silenzio vuol dire che sta lavorando non c'è da preoccuparsi dici tu qualcosa tirerà fuori esatto quando Rockstar sta zitta è perché non gli interessa far clamore non gli interessa star lì a fare le pubblicità a fare i proclami a fare a dire quello che non è realtà Rockstar lavora sodo quando ha la roba pronta spunta dal nulla all'improvviso con dei comunicati con dei video e vi dice questo è il gioco su cui stavamo lavorando mentre gli altri facciamolo casino noi eravamo lì stavamo lì a lavorare speriamo che hanno delle gran belle cose da farci vedere G-Jump dice che è anche impegnata a contare i soldi fatti con GTA 5 sì in effetti sì in effetti anche quello non l'avevo considerato hanno buona parte dello staff che sta contando quelli magari sì anche anche comunque mi è venuto in mente che c'erano un sacco di rumor su PlayStation Meeting che quasi ci avevano convinto che ci potesse essere un'ospitata su Red Dead Redemption 2 o Red Dead qualcosa comunque che fosse un seguito un prequel io ho letto io ho letto addirittura addirittura Red Dead Revenge ah è vero era venuto fuori un titolo e invece non abbiamo visto niente e non solo pure tutti i rumor su aggiornamento di PlayStation Vita PlayStation Vita Trinity zero quindi cioè a sto punto se i rumor non sono confermati mi sa che morte e sepolta for good sì vabbè secondo me sì anche anche comunque alla TGS silenzio sì tra l'altro se non ne parli neanche in Giappone che è la patria delle console Handel già lì vi fa proprio capire insomma che la cosa è morta lì finisce lì allora te ne leggo un'altra dal sito perché è un tema interessante degli ultimi giorni che è la domanda di White Diablo che dice ciao Redazza The Last Guardian è stato rinviato credete che dopo questo rinvio l'attenzione verso il gioco si sia abbassata considerando anche che Sony a livello pubblicitario non ha fatto chissà cosa per tenere vivo l'interesse al contrario ad esempio di quello che ha fatto Square con Final Fantasy 15 tra trailer dimostrazioni ed eventi ma guardate ragazzi secondo me ormai con The Last of Us sono arrivati ad un punto in cui anche Sony stessa The Last Guardian sì The Last Guardian cosa è che ho detto? The Last of Us ah vabbè sto per aria no con The Last Guardian sono arrivati secondo me ad un punto in cui non vedono loro anche loro che questo gioco esca e basta e basta perché sta andando avanti da troppo tempo ci sono stati problemi lo sapete e probabilmente per quanto riguarda il battagio pubblicitario secondo me se lo terranno per il mese finale prima del lancio e via e via la faccia scandalizzata di volte è impagabile però su cosa? forse quando parlavi di Red Dead Red Avenge probabilmente sì sì sono così leggibile sul volto mi sa di sì ok probabilmente sì no stavo pensando che effettivamente qualche tempo fa avevamo messo una news di Weda che diceva che stavano ancora lavorando alla correzione dei comportamenti non si sa se perché lui è un super perfezionista o se perché c'era parecchio lavoro da fare però adesso che l'hanno rinviato forse era la seconda opzione sì no anch'io per carità un po' di preoccupazioni però guardate da quando dall'ultima volta che l'ho vista a me è sembrato ancora un gioco che manteneva lo spirito delle opere di Weda forse ci sarà qualche problema tecnico ecco di quello paura di quello sì però vediamo allora Bloodmeat90 dice secondo voi Final Fantasy 15 ci sarà un flop? un flop no però secondo me sarà un po' controverso perché ci sarà tanto ci sono cani il famoso cane il famoso cane no sarà un po' controverso perché secondo me ancora ci sarà la storia di là da fuori dagli utenti più vecchi che diranno e però manca questo e però manca questo manca quest'altro è anche difficile tenere fede all'hype di dieci anni ti butti in un cunicolo da cui non esci più perché è un gioco parturito con tempi di gestazione biblici si tira dietro tutto il bene e tutto il male della cosa no però ecco sicuramente il 15 vuole essere un titolo che si rivolge al più grande pubblico possibile quindi per forza di cosa hanno trovato hanno dovuto sviluppare il gioco con dei compromessi e magari a molti non piaceranno queste scelte mentre ad altri che si avvicineranno alla saga probabilmente sì quindi vediamo vediamo un attimino se riusciranno a trovare il giusto equilibrio tra quello che può piacere e quello che invece forse non è esattamente nelle corde di un Final Fantasy Blood mi descrive che come hai detto che non sarà un floppy cane è iniziato a bagliare sì ma volevano protestare è stato un sollevamento canino allora Final Fabio dice ciao Stefania domenico ultimamente ho avuto il piacere di vedere Stranger Things e devo dire che mi ha veramente rapito era dagli anni di Breaking Bad che una serie tv non mi emozionava così tanto questo mi ha dato uno spunto di riflessione sul mondo dei videogiochi subito ho associato Stranger Things a Life is Strange e sono giunta alla conclusione che oggi la gente vuole storie storie raccontate bene storie dove nulla è scontato e dove si va avanti per scoprire cosa accadrà ahimè ultimamente sto vedendo un certo declino delle storie nei vari games alcuni titoli la rifiutano completamente come ad esempio l'ultimo Doom a questo punto vi chiedo è meglio un gioco ignorante che si basa solo sul gameplay divertente ma alla fine è becero o un gioco dove si racconta una storia con un gameplay naturalmente discreto e delle emozioni ultimamente mi sembra che l'industria abbia scelto la prima strada forse perché è più adatto a un pubblico di teenagers io personalmente da vecchio del gaming scelgo la seconda tutta la vita voi dove vi schierate dal lato di Doom o dal lato di Life is Strange? vai tu? beh io do una risposta scontatissima tu ti sanno già cosa risponderò io principalmente amo giocare per scoprire belle storie per emozionarmi quindi un gioco senza storie sì è un'esperienza ludica però non mi lascia niente secondo me il gioco che ti lascia qualcosa che ti porti con te ha qualcosina in più da dire tant'è vero che tra Doom è Life is Strange io voto Life is Strange ok no allora bello Stranger Things mi è piaciuto molto non vedo l'ora che arrivi la seconda serie intanto la seconda stagione detto questo io sono anch'io sono più per le storie però non disdegno i giochi no anche perché se togli completamente l'altra parte non avrebbe senso deve esistere anche l'esperienza ludica immediata cioè non dico che è il male io preferisco quelle ma è giusto che ci siano entrambe le parti a patto di non contaminare troppo il videogioco perché io lo dico sempre anche se sono un amante di Metal Gear Solid 4 è troppo sbilanciato verso il medium cinema perché stai solo a guardare la storia un buon compromesso è la cosa ideale certo no quello sì però ecco forse lui diceva no tra i due estremi voi da che parte state io guarda guarda Fabio e il discorso secondo me è veramente ci sono giochi e giochi come ci sono libri e libri come ci sono film e film dipende dal pubblico che li va ad acquistare a vedere a leggere eccetera eccetera a me sta benissimo che ci sia un mercato il più possibile vario va benissimo vanno bene sia quelli veramente no come dicevi tu Beceri più caceroni più chi se ne frega andiamo spariamo ammazziamo tutti e via sia quelli con una bella storia l'ideale sarebbe trovare un compromesso tra tutte e due le cose tant'è che i giochi più quelli più belli più memorabili alla fine sono quelli che hanno entrambe le cose quelli che insomma abbiamo premiato più di tutti però devo dirti che invecchiando sono sempre molto più vicino ai giochi che mi raccontano una storia e altrimenti dopo un po' mi stufo mi stufo sì dopo un po' mi stufo bello bellissima la competizione bellissima anche il fatto che un gioco ti può durare mesi e mesi solo perché ti spinge a confrontarti con gli altri però sono meccanismi sono interruttori diversi molto diversi rispetto a chi vuole una storia possono funzionare entrambi però ecco se proprio vuoi sapere la mia io preferisco sempre una gran bella storia anche perché la sento più vicina a me al mio modo proprio di intendere queste opere quello che ti spinge a metterti col controller in mano la tastiera il mouse a iniziare un gioco sì 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 nel frattempo sono nati i crossover notavo in chat life is doom doom is strange cose del genere a proposito c'era Giampiero Conte che su facebook ci chiedeva ciao a tutti vorrei porvi questa domanda faranno mai un life is strange 2 secondo me è una possibilità però al momento Dontnod è su vampire quindi mi fa tantissima paura ti fa molta paura ecco vabbè magari però insomma è un gioco di successo vediamo cosa non so se ci sono più più che altro se ci sono presupposti ecco perché tutto lo scenario della scuola lì del college quello che era di Arcadia Bay era molto ben fatto era molto carino il modo in cui era raccontato anche se il gioco via via diventa sempre più inquietante c'è da notare dal capitolo 1 al capitolo 5 diciamo che le atmosfere cambiano un po' però è molto ben fatto anche e soprattutto per i legami tra i personaggi farne un 2 dove con ogni probabilità devi cambiare il cast perché se no le scelte fatte dall'utente le spazi completamente via mi spaventa un pochino ok leggiamo le altre domande dal sito in maniera molto molto rapida si badmax1610 dice ciao amici spaziologi volevo porvi una domanda o riflessione pensando che il play anywhere di xbox ora sta portando l'esclusiva xbox one su pc in un futuro dovrebbe portare i giochi pc su xbox one allora capisco meglio la strategia di xbox one scorpio facilità d'uso di una console magari con possibilità di collegare mouse e tastiera libreria grafica da pc non è che il vero obiettivo di microsoft è entrare di prepotenza nel mercato del gaming pc unico settore del mercato pc con trend positivo grazie amici della risposta cioè ci sta chiedendo se microsoft sta facendo convergere le due cose per concentrarsi poi principalmente su pc ma si allora in parte si perché vedendo quanto i concorrenti cioè vedendo quanto sony in questa genere cioè fino a ora abbia avuto un predominio per quanto riguarda le vendite la scelta secondo me molto intelligente di microsoft è stata quella di afferrare il mondo pc e unirlo a quello della delle proprie console ha voluto far confluire queste due realtà per creare un concorrente enorme gigantesco da piazzare davanti all'impero che ha creato sony secondo me è una strategia molto molto interessante che può diventare vincente perché tu stai dando in sostanza la possibilità agli utenti di avere una gamma di scelte molto 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 ampia ecco anche perché sony ha detto con ps4 pro non vogliamo far scappare la gente verso il pc ma vogliamo tirarcela verso la nostra parte quella dichiarazione mi fa capire quanto sony sia terrorizzata dalla possibilità che la mossa di microsoft possa diventare una seria minaccia al predominio che in questi anni comunque riuscite a creare sony quantomeno per quanto riguarda le vendite diventa molto interessante a questo punto perché probabilmente saremo noi a usufruirne con i giochi e tutto il resto con le tecnologie e tutto quello che vuoi però però è da vedere è da vedere perché a livello di idee sicuramente ti posso dire che è un'idea che è qualcosa di che può aprire a un futuro assolutamente di grandissimo rilievo però dobbiamo vedere come metteranno in atto questa strategia e di conseguenza anche come rispondere a sony sembrava abbastanza folle comunque che microsoft si tenesse in sordina una cosa forte e popolosa come il mercato e beh era una roba fuori di testa francamente ti leggo l'ultima dal sito così chiudiamo con i commenti che è quella di jotaro cugio 79 che dice cara redazione avrei due domande da porvi sarei interessato all'acquisto dalla game of the year edition di the witcher 3 per playstation 4 è vero che non è possibile importare i progressi e salvataggi dal gioco di buzz nei dlc le due espansioni principali sono riscattabili con un codice presente nella confezione oppure sono su disco grazie mille allora è vero che non puoi importare i salvataggi perché abbiamo battuto le notizie e purtroppo è così per quanto riguarda le espansioni non sono sicura ma credo che te le devi scaricare penso che ci sia il codice ok allora vediamo se arriva qualche altra domandina aggiorno facebook intanto oggi siamo quasi puntuali sono le quattro sì 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 oggi siamo stati bravi no va bene vediamo eh sì gin ciampi dice imperversano i balordi su facebook Matteo se mi stai sentendo non scrivere perché ho dimenticato di mutare la finestra quindi si sente tutto perfetto perfetto no vabbè tanto siamo in chiusura leggiamo le ultime domande da da questo punto dalle chat via questo ho giocato il gioco tarocco non vuole perdere i salvataggi ragazzi eh no eh no tra l'altro si era acceso un dibattito intanto che aspettiamo altre domande nella chat sui giochi che hanno sia una bella storia che un bel gameplay ho visto che hanno fatto un po' di nomi sì no vedo tante domande in realtà quindi allora ne è arrivata una di blood meat 90 che dice secondo voi rocksteady sta lavorando un nuovo batman con damian wayne come protagonista avevo letto un rumor su questo è vero che era uscito il rumor però non ne abbiamo mai più parlato quindi o stanno lavorando nell'ombra o non lasciano fissare nulla oppure il rumor non era confermato aspettiamo che si dica qualcosa di nuovo aspettiamo aspettiamo e c'era ecco mi ricordo qualcuno che mi aveva chiesto se farò una live anche con la versione aggiornata di Resident Evil 7 non lo so non lo so forse lunedì forse la prossima settimana vediamo vediamo allora più che altro vediamo se nel frattempo usciranno fuori delle novità se qualcuno scoprirà dei segreti che forse a me sono sfuggiti ed eventualmente farò anche una live domani però dovrei fare una diretta con For Honor ho la closed alpha adesso non l'ho ancora provata perché c'erano i server chiusi dopo la diretta lo andrò a provare quindi le dai e le prendi domani speriamo che le due e basta speriamo che le due e basta nulla insomma va bene c'è Final Fabio invece che voleva sapere se faremo la recensione del Mega Drive cinese allora a meno che non se lo compri qualcuno dei colleghi non credo se dalla Cina ci mandano il Mega Drive cinese però ci pensiamo al massimo del Nest Mini al massimo può essere al massimo del Nest Mini essendo almeno ufficiale sì quello sì dice Federico 305 secondo me Microsoft dovrebbe puntare solo al mondo PC penso debba creare PC di diverse fasce fatti e ottimizzati in casa al 100% come fa Apple ad esempio Siete d'accordo? Allora è però un po' pericoloso fare una cosa simile un po' pericoloso perché allora innanzitutto abbandonare del tutto le console significherebbe automaticamente lasciare tutto nelle mani di Sony e dall'altra parte significa anche insomma far capire della concorrenza che hanno abbandonato quel mondo lì e secondo me non è una cosa che devono fare assolutamente nella maniera più assoluta invece l'idea di fare delle macchine proprietarie non è che mi stuzzichi più di tanto se devo dirti la verità anche se comunque è il sistema operativo più utilizzato però vediamo è anche complicato a livello di accordi devi decidere chi ci mette cosa dentro sì no ma soprattutto no abbandonare secondo me le console diventa crei una situazione di monopolio che diventa pericolosissima diventa veramente di un pericolo deve esserci sempre la concorrenza altrimenti ragazzi è un disastro è veramente un casino va bene secondo me possiamo chiudere sì anche perché c'è Insa che deve farvi vedere un po' di FIFA dalle 16 in teoria quindi appena chiudiamo noi ci sarà FIFA in streaming fino alle 19 ok ragazzi noi ci vediamo per i live redazionali ve l'ho già detto con me domani con For Honor e poi la prossima settimana con gli altri appuntamenti e quelli di questa settimana con i ragazzi del Planet che insomma ormai vi tengono compagnia con i vari streaming e chiudo così almeno rispondo a tutte le domande che stanno veramente arrivando anche su Facebook la prossima volta mi ricorderò di chiudere tutta la chat e sparire dal mondo per un'ora si sta contattando l'universo praticamente sì va bene va bene così è richiestissimo ciao ragazzi ciao alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao